L'emozione dell'esordio si sentiva molto? Sì beh sicuramente perché comunque è un momento, una manifestazione che prepariamo da tanto tempo e l'agitazione c'è per forza perché si parla di un mondiale e sono molto contenta perché siamo riusciti a superarla dopo il primo set dove abbiamo fatto un po' di errori e niente, adesso si pensa alle prossime partite C'è stato quel passaggio a vuoto dove sembravate avere il set in mano sul 6-2 poi dopo qualche errore siete dati un po' in crisi Per fortuna avete recuperato la frazione alla fine Sì vabbè nel primo set c'è stato quel momento lì dove siamo andati in difficoltà in ricezione e magari c'è stata un po' di paura nel fare il cambio palla però vabbè alla fine ci siamo riprese bene sia quel set che il set dopo L'Olanda? Sarà un'altra cosa rispetto a Porto Rico? Sì l'Olanda lo sappiamo che è squadra letta abbiamo incontrato tante volte, è una squadra molto completa e dobbiamo giocare sicuramente bene nei nostri punti di forza fare bene il cambio palla e muro difesa tutto